La voglia di Avellino c'è e si fa sentire. Il caldo non concede tregua, ma le file al botteghino non si placano. Oltre 2.000 ai biglietti venduti per la gara di domenica alle 20.45 contro la Juve Stabia di Paiuca per la prima partita ufficiale di Coppa Italia Freccia Rossa a gara secca ad eliminazione diretta. In palio per Lupi e Bespe un posto con vista a Friuli di Udine. Facile arrivare alle 5.000 unità e visto che si tratta quella del 4 della prima domenica del mese più caldo dell'estate non era del tutto scontato. Pronta già la chiarica dai ultra tinte bianco-verdi per spingere il roster di pazienza. Il gruppo dagli sodati tornando al chiampo continua ad allenarsi con Cosso e Molino al ritmo di sedute atletiche e sul manto ribuso nel partito da Lombardi, anche seduta in palestra. Il mister di stanza vero stando alle ultime contro la Juve Stabia di Paiuca potrebbe affidarsi nuovamente allo starting eleven che ha affrontato sabato scorso il Crotone di Longo con Gianna Rilli tra i pali, Cancellotti, Armelino e Frascatore in difesa, Tribuzzi, Palmiero, Sunas, D'Ausilio e Liotti pronti a dare manforte alla coppia d'attacco Russo e Gori e confida che proprio due cecchini possano trafiggere la porta a Stabiese e segnare subito il primo gol ufficiale davanti ai tifosi. Gol che è manchiato contro i pitagorici, vuoi per imprecisione, vuoi per mancanza di lucidità ma soprattutto anche per la cattiva sorte.